un ritratto. Qualcuno vicino a me esclamò, guarda, Milial. Osservai l'uomo che era stato nominato, poiché da molto tempo avevo desiderio di conoscere quel don Giovanni. Non era più giovane. I capelli grigi di un grigio chiaro assomigliavano a quelle cuffie pelose di cui si coprono certi popoli del nord, e la sua barba fine, assai lunga, fluente sul petto, aveva anch'essa un aspetto di pelliccia. Stava discorrendo con una donna, curvo su di lei, e le parlava a bassa voce, osservandola con uno sguardo dolce pieno di omaggi e di carezze. Conoscevo la sua vita, o almeno quello che si sapeva di lui. Era stato amato follemente parecchie volte, e in vari drammi il suo nome era stato coinvolto. Si parlava di lui come di un uomo seducentissimo, quasi irresistibile. Quando interrogavo le donne, che più ne tessevano l'elogio, per sapere da dove venisse quel potere, rispondevano invariabilmente, dopo aver cercato un po'. Non so, è un fascino. Certo non era bello, non aveva nulla di quelle eleganze di cui supponiamo dotati conquistatori di cuori femminili. Mi chiedevo, con interesse, dove fosse nascosta la sua seduzione. Nella sua arguzia? Non mi avevano mai riferito qualche suo moto spiritoso, e neppure magnificato la sua intelligenza. Nello sguardo? Forse? O nella voce? La voce può avere una grazia sensuale irresistibile, il sapore di un cibo squisito. Abbiamo fame di ascoltarla, e il suono delle parole penetra in noi come una ghiottoneria. Passò un amico e gli chiesi, conosci il signor Milial? Sì, vorrei essergli presentato. Un minuto più tardi gli stringevo la mano e chiacchieravamo. Ciò che diceva era sensato, piacevole ad ascoltarsi, senza aver nulla di trascendente. In effetti la voce era bella, dolce, carezzevole, musicale. Ma ne avevo intese altre che ti turbavano di più, dentro. Lo si ascoltava con piacere, come si potrebbe guardare la cascata dell'acqua di una vaga sorgente. Per seguirlo non era necessaria alcuna tensione di pensiero, nessun sottinteso, eccitava troppo la curiosità, nessuna aspettativa teneva sveglio l'interesse. La sua conversazione era soprattutto riposante e non suscitava in noi né un vivo desiderio di rispondere e di contraddire, né un'approvazione incondizionata ed entusiasta. Del resto era facile poterlo confutare, come era facile ascoltarlo. La risposta veniva dalle labbra da sé, non appena aveva finito di parlare, e le frasi andavano verso di lui come se ciò che aveva detto le facesse uscire dalla bocca naturalmente. A un tratto, dopo qualche istante di conversazione, mi pareva mio intimo da molto tempo. Tutto chiaro tra noi e gli avrei forse fatte sul conto mio, se lui le avesse sollecitate, quelle confidenze che solitamente non si fanno se non hai più intimi amici. Certo, c'era un mistero. Quelle barriere chiuse che esistono tra tutti gli esseri e che col tempo cadono a una a una, quando la simpatia, i gusti simili, una stessa formazione intellettuale e una costante frequenza di rapporti le hanno già dischiuse a poco a poco, sembravano non esistere tra lui e me, e indubbiamente anche fra lui e tutti quelli, uomini e donne, che il caso gli faceva incontrare sulla strada. In capo a mezz'ora ci separammo promettendoci che ci saremmo rivisti con una certa frequenza. Mi dia del suo indirizzo dopo avermi invitato a pranzo di lì a due giorni. Avendo dimenticato l'ora dell'appuntamento, arrivai troppo presto da lui. Non era ancora tornato a casa. Un domestico silenzioso e corretto mi introdusse in un bel salotto un po' triste, intimo raccolto. Mi ci sentii subito a mio agio, come se fossi a casa mia. Quante volte ho constatato l'influenza della casa sul carattere e sullo spirito. Esistono delle stanze in cui ci si sente sempre stupidi, altre invece in cui ci si sente sempre pieni di brio. Alcune ci rendono tristi, anche se chiare, bianche e dorate. Altre ci rendono più gai, benché tappezzate con stoffe sobrie. L'occhio, come il cuore, ha i suoi odi e i suoi amori, di cui spesso non ci rende partecipi e che impone segretamente e furtivamente al nostro umore. L'armonia dei mobili, delle pareti, lo stile di un arredamento agiscono istantaneamente sulla nostra natura intellettuale, come l'aria di bosco o di montagna modifica la nostra natura fisica. Mi sedetti sopra un divano che scompariva sotto i cuscini e mi sentii subito sorretto, portato e imbottito da quei sacchetti di piume ricoperte di seta, come se la forma e la posizione del mio corpo vi fossero stati segnati in anticipo. Poi mi misi a guardare. Nulla di chiassoso nella stanza. Dappertutto belle cose modeste, mobili semplici e rari, tende d'oriente che non sembravano venire dal Louvre, ma da un interno di Arem. E di fronte a me un ritratto di donna. Era un ritratto di media grandezza, in cui apparivano la testa, il busto e le mani che tenevano un libro. Era una donna giovane, a capo scoperto, i capelli pettinati in due bande lisce, con un sorriso un po' triste. Non so, forse il fatto che fosse a capo scoperto, oppure l'impressione che dava quella sua posa naturale. Ma mai, ritratto di donna, mi parve essere tanto adatto a quella casa quanto quello. Quasi tutti i ritratti che conosco sono teatrali, sia che la dama abbia vesti di circostanza, con acconciatura artefatta, un'aria di sapere che posa dapprima davanti al pittore e in seguito dinnanzi a tutti coloro che la guarderanno, sia che la prenda un atteggiamento di studiato abbandono. Alcune sono maestose, in un fulgore di bellezza, con un'aria di orgoglio che non hanno certo dovuto conservare lungamente nella loro vita. Altri in atteggiamenti graziosi, nell'immobilità della tela, e tutte hanno qualche cosa, un fiore o un gioiello, una piega della veste o delle labbra, che si indovina posta dal pittore per l'effetto. Che esse portino un cappello, un pizzo sul capo, o soltanto i loro capelli, si sente in loro un chedi innaturale. Che cosa? Non si sa, perché non si sono conosciute. Ma lo si sente. Sembrano come in visita presso qualcuno, presso gente a cui vogliono piacere, a cui vogliono mostrarsi con tutto il loro splendore, e hanno studiato il loro atteggiamento. Talora modesto, talora altezzoso. Che dire di quella? Era in casa sua, e sola. Sì, era sola. Sorrideva come si sorride quando si pensa solitariamente a qualche cosa di triste e di dolce, e non come si sorride quando si è guardate. Era talmente sola, e in casa propria, che faceva il vuoto in tutto quel grande appartamento, il vuoto assoluto. Lo abitava, lo riempiva, lo animava da sola. Vi sarebbe potuta entrare molta gente, e tutta questa gente avrebbe potuto parlare, ridere, anche cantare. Lei vi sarebbe rimasta sempre sola, con un sorriso solitario, e sola, avrebbe reso vivo col suo sguardo di ritratto. Era unico anche, quello sguardo. Cadeva su di me direttamente, carezzevole e fisso, senza vedermi. Tutti i ritratti sanno di essere contemplati, e rispondono con gli occhi, con occhi che vedono, che pensano, che ci seguono, senza abbandonarci, da quando entriamo fino a quando ce ne andiamo dalla casa che essi abitano. Quello invece non mi vedeva. Non vedeva nulla, benché il suo sguardo fosse piantato su di me, e mi ricordai lo sconcertante verso di Baudelaire, e i tuoi occhi, che attirano come quelli di un ritratto. Mi attiravano davvero quegli occhi, ma in maniera irresistibile, e gettavano in me uno strano turbamento, forte, sconosciuto, quegli occhi dipinti che avevano vissuto o che forse vivevano ancora, che facendo infinito e languido, come una brezza che passa, seducente come un cielo smorente di crepuscolo. Lilla, rosa e turchino, e un po' malinconico, come la notte che sta per sopraggiungere, emanava da quel quadro triste, e da quegli occhi impenetrabili. Quegli occhi, quegli occhi creati con pochi colpi di pennello, nascondevano in sé il mistero delle cose che sembrano esistere e non esistono, di ciò che può apparire in uno sguardo di donna, di ciò che fa germogliare in noi l'amore. La porta si aprì, e il signor Milià entrò scusandosi di essere in ritardo. Mi scusai a mia volta per essere arrivato troppo presto, e poi gli dissi, sarei indiscreto se vi domandassi chi è quella signora. È mia madre, rispose, morì giovanissima. E allora compresi, d'onde venisse l'inspiegabile seduzione di quell'uomo.